È l'inizio di un nuovo ciclone, secondo me, di un rimosso che tutti noi facevamo finta di dimenticare. Tanti anni dopo Mani Pulite, il grande tema del finanziamento della politica che avevamo messo sotto il tappeto riappare. La politica costa. Con la grande lavacro di Mani Pulite abbiamo giustiziato una classe politica intera, ma non abbiamo risolto il problema di fondo. Chi paga la politica? Perché la politica costa. Io ho visto l'esperienza in America che sono i lobbisti che sono un criterio di lobby per cui si può accedere, è tutto trasparente. In Italia no. E quindi vediamo alle cene eleganti, ai gioielli, alle ragazze compiacenti, è un affetto devastante sulla credibilità della politica e sulla voglia di andare a votare. E purtroppo è qualcosa che non abbiamo risolto e che ci riesplode in mano. Il populismo di cui si è abbeverato per anni a questo punto fa i conti con un mostro che non riesce neanche più a controllare. Perfino Conte, i 5 Stelle che sono vissuti sull'antipolitica e l'anticorruzione, non è riuscito a cavalcarla, perché è andato in Liguria e è stato messo un po' in un angolo. Però credo che sia solo l'inizio di un'ondata che potrà scuotere molti partiti. Allora però andiamoci a...